E' arrivato il via libera tecnico all'utilizzo delle tribune dello stadio comunale di Camaiore. E' stato il sindaco Marcello Pierucci in una nota ad annunciare l'ok, arrivato nel pomeriggio di lunedì dall'ingegnere Rodà, a seguito di alcuni piccoli interventi manutentivi, volte ad annullare il pericolo di sfondellamento della copertura. La certificazione che consente l'utilizzo delle tribune arriva dunque alla vigilia del Paglio dei Rioni, che partirà come da programma mercoledì sera. Nelle settimane scorse erano state le opposizioni di centrodestra a sollevare molti dubbi, lamentando i ritardi sull'esecuzione delle verifiche di staticità della copertura della tribuna. L'amministrazione era sicura che le verifiche avrebbero dato esito positivo, ha commentato invece il sindaco Pierucci, accusando le minoranze, Lega e Fratelli d'Italia, di aver cercato di mettere in difficoltà la giunta eppure il comitato Palio. Amaro in effetti il commento degli organizzatori. Dispiace soprattutto che dubbi e perplessità sullo stato dello stadio, si legge in una nota del comitato Palio, vengono mossi soltanto in concomitanza della manifestazione, quando invece lo stesso impianto viene utilizzato tutto l'anno per allenamenti e partite di calcio. Chiuso il caso, adesso Camaiore può pensare serenamente ai giochi, 31esime edizione, quattro serate a ingresso libero che si annunciano ad altissimo livello di competizione e di divertimento fra gli 11 rioni in gara che si contenderanno la sfida del cencio.